Eravamo quattro amici al VAR per vedere le rigori finti, eravamo quattro amici al VAR per vedere vinter vincere sempre, eravamo quattro amici al VAR. Buongiorno a tutti, piccola premessa, la prossima volta quando do un titolo a un programma come questo che è settimanale, vi ringraziamo perché l'ultima puntata ha avuto un grande successo, anziché chiamare i miei amici, i quattro amici al VAR, a parte Francesco che è sempre disponibile, chiamo magari il Presidente del Consiglio, il Presidente del Senato, che magari hanno meno impegni e più facili che ci siano, facciamolo, poi sfiga, è sfiga, vi assicuro che se loro potessero verrebbero ma non siamo praticamente mai riusciti a farlo in quattro. Benissimo, allora, caro Francesco ti voglio, prima di iniziare a parlare, ti faccio sfogare, stai tranquillo, stai tranquillo perché dovete sapere che Francesco pubblica... Lilli stai ferma, se mi sposti lo schermo, mi sposta lo schermo, praticamente il nostro Francesco pubblica tutte le settimane il pre e il post partita su Juventus Forever, che è un gruppo Facebook che se non conoscete vi invitiamo a partecipare, dove potete dire, se siete educati e gentili, potete dire quello che volete, potete anche essere pro allegri. Lilli, hai finito di spostare lo schermo, grazie, è molto gentile. Scusate, ma mi sposta il neck, è una roba allucinante. Si gratta il musetto e mi sposta il computer. Va bene, stavo dicendo, dovete sapere che lui pubblica sempre e ho visto un crescendo rossiniano di nervosismo e di rabbia da parte di Francesco. Tenete presente che Francesco, come carattere, è molto più tranquillo di me. Ancora qua sei, però stai ferma, stai ferma. Scusate, abbiamo una disturbatrice abitue. E quindi... Questa è la coda, la vedete? Questa è la coda. Non è l'antenna, è la coda. E quindi quando noi vediamo le partite della Juventus che commentiamo in diretta tra amici, mi rendo conto che la pazienza sta avendo un limite. Allora io voglio incominciare in un modo particolare oggi. Intanto benvenuto a tutti quelli che guarderanno questo video. Mi raccomando, opinioni a go-go, come l'ultima volta, che mi interessa la vostra opinione. Io e Francesco le leggiamo, ma le leggono anche Ludovico e gli altri, non è che le leggiamo solo noi. Allora, Francesco, tu sai quanto io sono appassionato e cultore di cinema, no? Ok? Visto che mestiere che faccio e che ho fatto per una vita, no? E mi immagino un film tipo Armageddon, tipo Twister, tipo Dante's Peak. Quei film catastrofici, no? Ok? È presente quei film catastrofici. Immaginati una scena in cui tu sei lì con la tua auto, magari siamo insieme, no? Facciamo un viaggio, un fotografico insieme, io e te e con il nostro signore. E improvvisamente si scatena una bufera di proporzioni cosmiche e incominciamo a vedere dalla montagna, dove noi ci stiamo recando, dei massi che scendono, no? Ci stanno davanti a noi, cioè si sta scatolando la montagna, no? Ok? Ho fatto questa metafora naturalistica, che ovviamente è il mio pane da quando sono nato praticamente, per dirvi che secondo me questa Juventus stiamo vedendo soltanto l'inizio della frana. Io sono convinto che stiamo vedendo l'inizio della frana. Per curiosità, non l'ho mai fatto, eh? La prima volta che lo faccio, Francesco, quando ho sul canale YouTube, sono andato a riguardarmi un video che ho pubblicato all'indomani di Lecce e Juventus, 3-0 per la Juve, quando la Juventus aveva infilato una serie di vittorie. Io, siccome non ero convinto di queste vittorie, perché erano state secondo me casuali e fortunate, molte, feci un Good Morning il lunedì successivo a Lecce e Juventus, anche perché purtroppo tu sai che non sono stato bene, non ho potuto vederla quella partita, mi sono fidato del vostro giudizio, feci un video intitolato, è sul canale, se avete dei dubbi, non credo nello scudetto. Sto parlando di un video fatto quando la Juventus aveva inannellato sei o sette vittorie consecutive. Non aveva ancora giocato con l'Empoli, l'avrebbe giocato di lì a pochi giorni con l'Empoli. Allora, adesso non dite che porto sfiga perché non esistono queste cose. Esiste che, secondo me, vedere lontano non è da tutti. Faccio i complimenti, colgo l'occasione per fare complimenti a Romeo Agresti, perché Romeo Agresti è un altro dei pochi, insieme a me, che non ha mai creduto nello scudetto della Juventus. Lui perché dice che la rosa di Milan-Napoli-Inter è più forte e ci può stare come giudizio. Io per un altro motivo, perché con questo allenatore tu, se sei competitivo 10, lui ti fa essere competitivo 5. Se sei competitivo 20, lui ti fa essere competitivo 10. Se sei competitivo 100, che sarebbe il top, lui ti fa essere competitivo al 50%. Bene. Chiaro, no, la premessa, Francesco? Molto chiaro, no? Quindi io sto dicendo che sono molto, ma molto, ma molto preoccupato, ma molto preoccupato a differenza di Romeo Agresti. Scusate se lo cito, ma ultimamente ho visto dei video sui che mi sono piaciuti molto, perché lo ritengo un youtuber nonché giornalista che ha le idee chiare e non ce ne sono tanti in Italia che hanno le idee chiare come lui. E non siamo amici, ci tengo a sottolinearlo, non ci conosciamo neanche. Magari lui avrebbe visto qualche mio video, io ho visto molti suoi video. Allora, perché sono preoccupato, Francesco? Sono preoccupato perché se noi abbiamo una stringa, chiamiamola così, di otto partite vergognose, perché io la partita con Frosinone vinta l'ultimo secondo non la metto tra le partite vinte, anche se abbiamo fatto tre punti, la metto come una botta di fortuna clamorosa, clamorosa, perché se Rugani non si inventa quel gol lì, noi abbiamo fatto zero vittorie in otto partite, zero vittorie in otto partite. Abbiamo vinto solo col Frosinone. Voglio dire, se la Juventus non vince col Frosinone a Torino abbiamo perso con l'Udinese in casa, abbiamo pareggiato con l'Atalanta, abbiamo pareggiato con il Genoa, abbiamo pareggiato col Verona, abbiamo perso con il Napoli, abbiamo perso con l'Inter. Allora, se 2 più 2 fa 4, abbiamo perso con l'Inter e con il Napoli. Adesso abbiamo la Lazio, che è delle top 10, delle top 7. Poi avremo la Fiorentina, che è Occio, perché la Fiorentina non è facile da battere. Avremo il derby. Iuri sta andando a vincere da tutte le parti. Forse è uno dei toro più granitici che ci sono negli ultimi anni. Poi abbiamo la Roma fuori, poi abbiamo il Milan in casa, poi abbiamo il Bologna fuori. Ragazzi, ragazzi, ci servono 11 punti, no? Ha detto Allegri. Non sarà facile fare questi 11 punti per qualificarsi in Champions League, eh? Non sarà facile. Non dico che non ci riusciamo, perché non voglio essere catastrofico, ma non sarà facile. Perché? E adesso veniamo alla discussione. Perché secondo me Francesco, però tu mi dici la tua opinione, magari diversa dalla mia, perché secondo me Francesco si è spaccato lo spogliatoio, che è contro al tecnico. Secondo me loro sanno già che lui non sarà più l'allenatore l'anno prossimo e stanno tirando al 26 di maggio. Solo che per tirare al 26 di maggio, se non mi vincono più una partita, dopo noi il 26 di maggio ci attacchiamo al tram, perché l'anno prossimo è vero che abbiamo il mondiale per club, ma se siamo fuori dalla Coppa dei Campioni non possono neanche investire, perché la Coppa dei Campioni ti porta degli introiti che Elkan accetta di reinvestire in acquisti. E quindi è fondamentale andare in Champions League. Soprattutto dopo quest'anno dove ci hanno squalificato, non ci siamo andati e ci è costato una... avete visto no? Il mercato della Juventus è stato imbarazzante. UEA, Alcaraz e Thiago Diallo. UEA non si sta dimostrando quello che ci aspettavamo, giocatore modesto. Thiago Diallo mai visto. L'abbiamo preso, lo tengono parcheggiato lì, non si sa, poverino, dicono che sta bene, non lo fa neanche, non gli ha fatto fare neanche cinque minuti, neanche cinque minuti. Almeno Caio George gli faceva fare cinque minuti all'ottantacinquesimo. Alcaraz ha fatto due partite, una mezza, una intera, si è fatto male. Questo è il mercato della Juve di quest'anno. Quindi diciamo che è il mercato sotto zero, non è esistito, perché il mercato vero è un'altra cosa. Questa Juve l'anno prossimo, se si qualifica alla Champions League, avrà circa 60 partite e si va anche in Supercoppa, cosa che a questo punto ci possiamo andare solo tramite la finale di Coppa Italia, andare in finale, perché secondo posto, lo ribadiamo come abbiamo detto la settimana scorsa Francesco, non siamo più secondi. La settimana scorsa non avevamo più secondi per un punto, adesso i punti sono di più. Se continuiamo così, bravo, e se continuiamo così i punti saranno sempre di più, sempre di più. Anzi, rischiamo che il Bologna ci scavalchi, rischiamo che la Roma ci venga a rompere le palle, e dopo sono problemi. E se salta su anche il Napoli, perché adesso Napoli e la Roma difficilmente perderanno le partite. Avete visto ieri Napoli? Non dico che meritava di vincere, ma poco ci manca, che meritava di vincere ieri sera a Napoli. Bene, quindi caro Francesco, la mia domanda che ti faccio, e poi tu parli a ruota libera anche di tutto quello che ho detto, poi ti dirò la mia, però voglio sentire prima te. Tu saresti favorevole a un esonimo immediato di Allegri e metterci il primo che capita in casa, e per in casa intendo Brambilla, intendo Montero, intendo Magnanelli, perché no, no? Dagli mano alla squadra a lui, no? Visto che c'è già, non devi pagarlo, lo paghi già. Oppure dici, vabbè, la frittata è fatta, speriamo che non faccia troppi danni, arriviamo a fine stagione con lui, così l'argomento poi si chiude il 26 di maggio. Adesso voglio sentire quello che tu dirai. Mi hai servito la portata su un piatto d'argento, io lo voglio via non domani, ieri, perché dopo la prestazione, 7 punti in 8 partite, media retrocessione, signore, quello che è successo a Blaubic alla fine è tutto, è figlio del nervosismo che c'è negli spogliatoi. Iese i Blaubic non vanno più d'accordo, sono amici, ma non vanno più d'accordo. Ieri sera si guardavano in Cagnesco per tutta la partita, non c'è serenità, non c'è tranquillità. La tranquillità nello spogliatoio, chi la deve dare? Io, tu, la deve dare l'allenatore, giusto? È lui che deve dare, ma non è sereno neanche lui, basta vedere la risposta che ha dato il giornalista ieri sera. Ne parlo domani mattina nel Good Morning di questo, ne parlo domani mattina nel Good Morning. Quindi, io lo voglio via subito, mettiamoci tanto, voglio dire, l'affrittata è fatta. Il danno è stato fatto. Magari con un allenatore diverso, con uno shock dell'allenatore diverso, magari ci riprendiamo un attimino. Magari, come dici tu, visto il fatto che tirano il 26 marzo, dobbiamo tirare con questo allenatore, dando un segnale di mandarlo via, magari questi si ringalluzziscono e poi tornano a vincere qualche partita. Perché 11 punti è sufficiente fare due vittorie, o anche tre vittorie, poi un pareggino o due. Cioè, non è una cosa improponibile. Con Allegri è impossibile, con un altro allenatore, vabbè, non c'è certezza, però non è vero né il contrario, non è vero neanche il contrario, non si sa. Però, diciamo, di quello che siamo sicuri è che se va via Allegri siamo tutti più tranquilli e anche noi tifosi. E lì, scusa, io non vedo Francesco, non lo vedo più Francesco. E lì, amore, non vedo più Francesco, ti sei messo davanti, spostati un po', dai. Vieni qua, vieni qua, stai qua, stai qua con me. No, no, prego, prego Francesco, scusami, ma non ti vedevo più perché lì lì sei messo davanti. No, no, nel senso, quello che devo dire, ho detto, lui deve andare via subito, ma allora, la Roma ha cambiato l'allenatore, non ha più perso una partita. Il Napoli ha cambiato l'allenatore, ha ritrovato il gioco. La Juventus Woman ha cambiato l'allenatore. La Lazio si è dimesso l'allenatore, la Lazio è andata a vincere subito. La Lazio si è dimesso l'allenatore. Adesso il rientro ce l'abbiamo proprio con il neo allenatore. Secondo te è una partita facile? Tra l'altro, bravo Francesco, adesso sei tu che mi hai dato un assist alla Zidane, da spingere in porta. Tra l'altro, noi affronteremo quell'allenatore che è stato fatto dimettere dalla Juve, dal Marsiglia, per venire da noi, che poi è stato trombato perché Elkan ha cambiato idea. Questa è una cosa che pochi sanno, ma ve la voglio dire, ma si sa nell'ambiente. Cioè, Tudor si è licenziato dal Marsiglia per venire ad allenare la Juve al posto di Allegri l'estate scorsa. Poi è stato trombato. Dito, no, andiamo avanti con Allegri perché Allegri ha fatto promesse, no? Non ti preoccupare che quest'anno la Juventus vivi, 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 vivi. C'è stata l'illusione, no? Fino a gennaio, perché fino a gennaio c'è stata l'illusione. Allora, Lilli, ma per piacere, scusate, la tolgo perché continua a spostare lo schermo. E quindi, capisci, andiamo... Questo qui farà di tutto per batterci. Primo perché vuol dimostrare che l'ottito ha scelto bene. Secondo, per guadagnarsi la riconferma l'anno prossimo e soprattutto perché dice, ah sì? Mi avete fatto stare senza lavoro per quasi un anno perché devo venire da voi e invece mi avete trombato per tenere questo caprone qua e adesso vi metto a posto io. Questa è una lettura mia, eh, di cui mi assumo la responsabilità, ma secondo me ci sono andato molto vicino a quello che accadrà. No, no, ma io condivido pieno quello che stai dicendo. È la vendetta. La vendetta è un piatto che va gustato freddo, Max. Eh, esatto, esatto. Anzi, io farei come ha fatto David. Ti ricordi, David, contro il Milan, che quando ha fatto gol e ha esultato davanti a Capello? Perché l'ha mandato via dal Milan, che l'ha messo come scarto. Tudor, se vince la partita con la Lazio, va davanti, i tifosi... Ti ricordi come fece Zidane una volta? Ha mandato via. Vedi? Sì, sì, sì. Per quello si vuole vendicare assolutamente. Poi ti ho detto, ma eh, poi la Lega comincia anche, come di città, a andarmi su una gamba. Io non... Anche guardarlo, solo guardarlo, senza che parli, già mi viene plurito, mi viene... Sai perché? Ma sai perché, Francesco, secondo me, e non è successo solo a te, ma è successo a milioni di giuventini, a parte gli ottusi. Gli ottusi difendono una loro idea che non ha né capo né coda, perché uno, per difendere un'idea, la deve argomentare, la deve circostanziare. Invece loro, no, 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 Allegri ha vinto cinque scudenti, ha fatto due finali, diceva, cosa vuol dire? Anch'io da giovane frequentavo certi ambienti, facevo certe cose che adesso non faccio più. Il tempo passa per tutti. Lui ormai è superato. Lui ormai è superato Allegri. Va bene? Bene. Quindi il problema è che, secondo me, stavo dicendo, molti tifosi, compreso te e me, non lo sopportano più. Sai perché? Perché sta venendo fuori la sua vera natura. Faceva sempre il simpaticone, no? Vinceva, sai, difficilmente lo attaccavano. Già c'era una marea di leccaculo, no, in conferenza stampa, no? Ok? Però adesso, quando qualcuno si permette di fargli notare, non è che gli dice, lei Allegri non capisce un cazzo di calcio, gli dicono, Allegri, lei ha... Ok, ci spieghi, gli ha detto Teotino, no? Faccio un'anticipazione di quello che dirò domani mattina, no? Veloce. Ci spieghi, come mai? Questo qua, anche se che rispondergli, probabilmente non c'è mai, ma proprio, cioè, la risposta è, no, lui, lei mi vuole insegnare a fare un attore, io non le insegno a fare il giornalista, ma che risposta è? Ma che risposta è? Cioè, è come se uno venisse da me, no, mi chiede una cosa e mi contesta una cosa che ho detto e io gli rispondo, ma cosa vuoi fare il furbo? Fai lo youtuber, poi quando avrai fatto lo youtuber mi dice, ma cosa vuoi dire? Che ragionamento è? Ognuno risponde per se stesso, per le proprie conoscenze, per le proprie capacità. Per cui, adesso lui, secondo me, lui lo sa già che non lo vogliono più, lo sa già, non ci posso credere che sanno, cani e porci sanno che giuntoli, perché di voce non ne ho sentita solo una, lo sai quale anche, no? Una. Sì, sì, sì. Eh, quindi, ma anche altri che sono meno affidabili magari, ma tutti che mi dicono la stessa cosa, che giuntoli non lo può vedere, ok? Che sono tutte dichiarazioni di facciata per arrivare a fine stagione, ok? Anche stamattina si sono, eh, hanno ribadito che per adesso, per adesso Allegri non è in discussione, hanno detto. Ma è normale, non lo esonerano, per quello che te l'ho chiesto io prima te, perché volevo sentire il tuo polso, la tua posizione, no? Anch'io vorrei che lo esonerassero, ancora prima che noi registrassimo questo video, o addirittura stasera, quando magari molti lo vedranno. Il problema qual è? Il problema è che non lo esonerano perché, secondo me, sono convinti, e mi auguro che abbiano ragione, che la Juventus non aveva difficoltà a qualificarsi in Champions. E dicono, cavolo, andiamo a esonerare uno, poi magari quello che arriva fa ancora peggio, no? Hai capito? Cioè, il certo per l'incerto. Solo che, secondo me, Allegri adesso è tutto fuori che è certo. Ti spiego perché. Quando la Juventus esonerò Vanieri nel suo secondo anno la Juventus, mancavano due giornate, che per me esonerare una o due giornate alla fine è da pazzi, no? Però lo esoneravano esattamente perché aveva preso una deriva come quella che stiamo prendendo adesso, non così brutta, perché è dal 1922 che la Juventus non faceva una roba schifosa come 22, 1922, 102 anni sono passati. No, che cazzo sto dicendo? Sì, sì. 102 anni. 102 anni, sì, che cazzo dice? 102. 102 anni. Loro l'hanno esonerato perché avevano paura che non riuscisse a qualificarsi per la Champions League. Hanno preso Ferrara, tra l'altro c'aveva un calendario che avrebbe vinto forse anche mia nonna in panchina, comunque non è, no? Quindi, poveretto, la Vanieri l'ha fatto fuori così gratuitamente. Visse, mi sa, tutte e due le partite, ecco, Ferrara. Tant'è che poi si guadagnò la riconferma e fu un disastro l'anno dopo. È stato, penso che uno dei peggiori allenatori che la Juventus abbia mai avuto, con tutto il bene che gli ho voluto come giocatore. Per cui? Per cui io sono convinto che non lo esonereranno, a meno che, attenzione Francesco, a meno che, perdiamo con la Lazio a Roma. La Lazio viene a Torino tre giorni dopo in Coppa Italia a far l'andata e non la battiamo, poi ci abbiamo il derby e non lo vinciamo. Secondo me se su tre partite non facciamo una vittoria, anche se facciamo due pareggi, lo esonerano, secondo me. Perché allora a questo punto apparirà chiaro alla società che c'è qualcosa che si è rotto, definitivamente. Poi tra l'altro vedo Balzarini, che è sempre stato un suo difensore, e la pensa così. Agresti l'ha sempre difeso ed è più di un mese che dice che non va mica bene. Luca, Toselli, cito tutte le persone che stimo, sia chiaro, perché io non faccio dissing, io parlo bene delle persone, di quelli che non parlo sono affari miei, quello che penso, ovviamente. Luca Toselli non ne può più, Chinoshi non ne può più, anche Corpo Gobbo si sta spostando fuori di Bali Allegri. Cioè, la maggior parte degli influencer juventini, chiamiamoli così, ci stanno tutti schierando dalla parte di meglio che se ne vada, dubito fortemente che lui sia così stupido o la società sia così sciocca da iniziare una stagione con un allenatore che va a scadenza nel 2025 a giugno e c'è una competizione in corso, perché la Juve, anche se sarà eliminata, ti spiego questa cosa che tu la sai, ma la spieghiamo ai nostri amici, anche se la Juve sarà eliminata entro giugno, però la lista di chi partecipa al mondiale la devi presentare prima dell'inizio della competizione e quindi se tu presenti una lista con dei giocatori, se vai fuori ti va di culo, ma se vai avanti quelli che poi sono in scadenza di contratto non possono giocare a luglio, per motivi sicurativi, per motivi contrattuali, capisci? Perché poi i procuratori ti dicono oh, questo qui non è sotto contratto, non può giocare, eh? Chi risponde se si fa male? Capisci quello che voglio dire? Quindi, il mondiale per club, l'ho spiegato nel video, è già out, è un assist per chi non vuole più Allegri, per noi quindi, è un assist, perché o gli rinnovano il contratto, ma io sinceramente, te lo dico proprio con grande sincerità, do una possibilità su 100 che venga rinnovato il contratto ad Allegri, giusto perché dare 100% è pericolosissimo, no? Io darei 100%, ma è pericolosissimo dare 100%, io do lui 1% che gli rinnovi il contratto e 99% che venga esonerato, perché lui, da grande uomo qual è? Eh? Lui non si scaccola, lui non beve, lui non si veste da benzinaio, ma lui non si dimette. Quell'altro che si scaccolava, che si vestiva da benzinaio, ha avuto le palle di rinunciare a 5 milioni di euro e si è dimesso e non ha già un'altra squadra, eh? Che che ne dicono molti? Ha già il Napoli? No, perché De Laurentiis si è precipitato a dire che è un coglione, ha detto, secondo lui. La cosa bella è che io la penso sempre all'opposto di De Laurentiis. Qualsiasi cosa De Laurentiis dica, io guarda caso, la penso esattamente all'opposto di lui. Questo mi fa molto piacere perché non ho assolutamente stima di De Laurentiis, no? Se fosse una persona che stimo, magari qualche preoccupazione ce l'avrei. Per cui il mondo juventino si è rivoltato in massa contro Allegri. Tu, tu, che cosa vedi? No, no, tu che cosa vedi nel futuro della nostra Juventus? Perché dovremmo rimpinguare la rosa, in quanto abbiamo bisogno, abbiamo un mondiale. Speriamo di avere una Champions League anche. Supercoppa, chi se ne frega, sono due partite, se ti va bene, chi se ne frega. Però, voglio dire, no? Che dici? Dimmi un po'. Io intanto opterei per cambiare l'allenatore, subito, seduto stante. Sì, l'hai detto. Allora, poniamo che questa condizione non si verifichi, no? Diamo per scontato che io, purtroppo, abbia ragione, cioè che non lo esonero, no? 26 maggio, dal 27 maggio, tu fossi giunto lì, cosa faresti? Dimmi cosa faresti. Dal 26? Vabbè, cioè, sicuramente non posso rinnovare un contratto ad un allenatore che è in scadenza, che poi mi fa, cosa fai, mezzo campionato e poi fai la Coppa e poi vieni esonerato, cioè è un po' come i giocatori di calcio, no? Che c'hai il contratto fino al 30 giugno, poi ti scade il contratto e non puoi giocare a luglio il mondiale? Io, se fossi giunto, gli farei fare questa stagione, questo punto e basta. Però ricomincerei tutto da capo, perché secondo me, Max, la Juventus ha bisogno di una ricostruzione in toto. Esatto, esatto. Bisogna partire dalle basi, partire dall'allenatore. Poi, se arrivano i successi, ma qualche buona partita in Champions, ma magari anche qualche buona partita in Mondiali, di conseguenza i giocatori si ingolosiscono a venire alla Juventus, perché adesso i giocatori non sono, una volta, Max, correggimi se sbaglio, c'era la fila fuori per quelli che volevano venire a giocare alla Juventus. Adesso anche quel karma lì, la Juventus l'ha perso. Tu comincia a cambiare l'allenatore, comincia a vincere qualche partita, comincia ad arrivare, non so, magari anche a portare a casa anche qualche torneo importante, vedrai che poi i giocatori arrivano da soli, senza che tu li vai a cercare, secondo me. Però ci vuole un repulisti totale. Certo. E quindi, bravo, e quindi... Non so se mi sono spiegato bene. Benissimo, benissimo, benissimo. E quindi, su quale prospetto andresti? Io un'idea ce l'ho, perché, sai, vi ho riferito di Zidane, ne ho parlato anche stamattina. Sì, sì, sì. Ed è una voce fondatissima questa di Zidane. Io però, personalmente, con tutto il bene che gli voglio, io ne voglio tanto perché mi ha regalato delle emozioni indimenticabili, anche se un po' mi ha deluso nelle due finali perse, va detto questo, perché lì è un po' sparito. Va beh che lì è sparita tutta la Juve. Io, personalmente, hai detto la parola magica tu. La Juventus va ricostruita. E per ricostruire non ci vuole uno che ha allenato Real Madrid, che aveva dei campioni. Ci vuole uno come Tiago Motta, che è abituato con i giocatori che non sono nessuno. Perché Tiago Motta ti trasforma Zizke e Calafiori in due giocatori che adesso vogliono tutte le squadre di Serie A della Premier della Spagna. Non so se lo sai. Questi due giocatori che nessuno conosceva, perché sfido qui sotto qualche sbruffoncello a dirmi, ah io Zizke lo sapevo. Dopo sono tutti bravi a sapere le cose. Io sono franco, sincero, io manco sapevo che esistessero Calafiori e Zizke. Non che non li conoscevo, non sapevo neanche che esistessero. Ok? Chi è che ha fatto diventare Calafiori e Zizke, due giocatori appetibili ovunque? Io? Beh, Allegri? No, Tiago Motta. Io andrei su di lui. Se vuoi vincere lo Scudetto, invece andrei su Conte. Ma a me risulta, lo dico in maniera molto netta e molto chiara, che lui abbia già un pre-accordo firmato con il Milan e stia già facendo la lista della spesa. Perché Pioli, alla fine della stagione, gli danno il ben servito. Saranno pochi gli allenatori che rimangono a fine stagione. Uno è Inzaghi, perché ti ha vinto lo Scudetto in Carasso. Esatto. Forse andrà via Iuric, Italiano non resterà, Allegri non resterà, Pioli non resterà, Palladino non resterà. Guarda cosa ti sto dicendo. Sai che la proprietà non è più di Berlusconi, eh? Del mondo. Esatto. Ci sarà un repulisti, un cambio di allenatore pazzesco. Pazzesco quest'estate. Ci sarà un domino. Capisci? E quindi è importante attenzione perché Tiago Motta potrebbe anche essere... Poi bisognerà vedere se De Rossi verrà confermato. Io forse De Roma lo confermerei. Sta facendo meraviglie, sto facendo. Io lo confermerei De Rossi. Poi dopo ci penseranno i Fretkin a fare i ragionamenti. La Lazio probabilmente se Tudor farà bene da qui alla fine lo confermerà, ma se da qui alla fine, che lui è un litigioso, litigherà, anche lui se ne andrà. Gasperini ha già mezzo detto che è l'ultimo anno che fa l'Atalanta. Rimarrà Gilardino, sempre che non arrivi una squadra forte che lo vuole, perché Gilardino si è rivelato un ottimo allenatore, per cui ci sarà un domino. Chiaro? E qui bisogna essere pronti a saper andare sui prospetti giusti, sia come tecnici che come allenatori. Io personalmente, l'ho sempre detto, proverei Tiago Motta. In seconda battuta, ma mi ispira meno, italiano. È bravo, lo stimolo. Sai che lo stimolo e mi piace. Però ho paura che l'italiano non abbia la personalità per imporsi, cosa che invece ti assicuro che Tiago Motta ce l'ha. Perché Tiago Motta, ho sentito parlare di gente che ci ha giocato insieme, gente che l'ha avuto, che lo conosce nelle interviste, che potete aver visto anche voi, e tutti dicono la stessa cosa, che questo qui è un leader. Tiago Motta è un leader. E la Juventus ha bisogno di uno che sia stimato dai giocatori, anche perché poi, mi immagino, che i vari McKennie, i vari Cambiasso, i vari Vlaovic, i vari Bremer, sto citando i migliori, non a caso sto citando i migliori, di fronte a un tecnico che gli insegna i movimenti senza palla, gli dai e vai, schemi tattici, cioè, secondo me sono contenti. Perché quando ieri Vlaovic mette la palla nel corridoio per Chiesa a sinistra e Chiesa va a destra e si ferma, dice, ma è possibile che questi qui, dopo due anni che giocano insieme, non hanno mica feeling? Non si capiscono? Possibile dopo due anni? Dai, non esiste. Infatti, per quello sono d'accordo con te sul discorso di Tiago Motta. Perché Zidane, secondo me, è un allenatore che, se gli fai la squadra bella e costruita, la sa gestire. Basta vedere, quando è dato Real Madrid, praticamente Real Madrid vinceva le partite da solo. C'era un certo mostro sacro, uno per tutti, CR7. Non è che ha allenato Real Madrid da ricostruire. Quindi alla Juventus farebbe fatica a ricostruire. Non sto dicendo che non mi piacerebbe Zidane, ma se io devo ricostruire una squadra e vedo che Tiago Motta da nulla in due stagioni ti ha portato il Bologna da quella squadra che era sempre lì per retrocedere, che praticamente è un passo dalla qualificazione alla Champions League, qualcosa vuol dire che con dei giocatori non di nome è riuscito a creare qualcosa di importante. Ha fatto bene ovunque andato, Spezia e Genoa. Non è che ha fatto bene solo il Bologna. Anche perché poi abbiamo l'esempio di Conte. Conte, prima di allenare la Juventus, ha fatto un allenato a una squadra piccola. Poi è venuto la Juventus e ha fatto il botto, nel senso buono del termine. Conte è diventato Conte alla Juve, bravissimo. Conte, battendo, battendo, guarda un po' chi, uno squadrone allenato da chi? D'Allegri. D'Allegri, esatto. Ma facendo il Milan di Allegri. Un Milan che Ibrahimović, Zambrotta, Tiago Silva, Nesta, una squadrona, cioè una roba... Quindi per quello io dico, io ho guardato il tuo Good Morning stamattina, così come tutti gli altri che guardo, non me ne perdo uno, ma tu lo sappi, te lo smetto di coca che qua in trasmissione, quello di stamattina quando hai detto Tiago Motta, io un po' me lo aspettavo perché ti conosco e quindi so come ragioni, ma anch'io lo penso come te. Cioè, è bello il club, i Zidane, sono belli, sono nomi antisonanti, sono nomi che tutti vorrebbero avere nella propria squadra, ma questi allenatori sanno ricostruire una squadra da zero? C'è chi sì, c'è chi no. Tiago Motta siamo certi, più poi finisco, Tiago Motta siamo certi che per il partire, per me è il prospetto giusto. Sì, anche perché a Tiago Motta gli dai un anno di lavoro, per poi giudicarlo a quello successivo. A Zidane non glielo dai, eh? Zidane dopo cinque partite, se non è primo in classifica, o se è terzo o quarto, Zidane out, eh? Cominciano a partire di Zidane out, perché il tifoso juventino non ha pazienza, non ha, eh? Perché così Dane, avendo il nome che ha, uno pretende. Esatto, esatto. Uno pretende, capito? Invece prendendo un nome come Tiago Motta, magari se ti vinci il campionato è una piacevole sorpresa e riesce anche a gioire di più, capito? Francesco, ti faccio una confessione e poi voglio vedere se i ragazzi che guardano video qua sotto la pensano come me. Io sarei solo felice di vedere giocare bene la Juve. Già, io sarei contento di essere un campionatore che fa giocare bene. Bene significa vedere delle belle giocate, tanti tiri in porta. Io adesso te lo dico proprio con grande sincerità, no? Visto che non facciamo più live reaction, anche se ho in serbo una sorpresa, eh? Vi dico in anteprima che ho in serbo una sorpresa per voi, che riguarda le live reaction, ma ne parlerò poi dettagliatamente, magari la settimana prossima, nel prossimo... che non ci... ci saremo, eh? Anche se c'è la pausa, la settimana prossima noi ci siamo, eh? Quattro amici quintus debba riconquistare il cuore dei tifosi, debba riconquistare l'amore e la passione dei tifosi. Perché quando mi metto davanti alla televisione a vedere la partita, mi viene il magone. Sono stato chiaro, no? Il magone. E' quella la stessa situazione che ho io, eh? Un groppo qua, non sto più nella stessa posizione in cui sono stato per anni e anni e anni e anni sul divano a vedere le partite, no? Teso in avanti come se ci avessi un palo nel sedere, per capirci, no? Sto tutto stravaccato così, come se avessi paura che da un momento all'altro ci fanno gol e ci fanno gol! E ci fanno gol! Oppure noi non facciamo gol! Tu pensi che sto rincoglionito ieri è stato capace di dire la bella notizia che non abbiamo preso gol? Gol Genoa! Che non ha nessuno! Cioè, chi è che ci poteva fare gol? C'è sul bambino che veniva giù dal cielo! Il Genoa che ci poteva fare gol! Ma ci rendiamo conto che Retteghi è uno scarsone o no? Che Messia l'ha dato via dalla disperazione il Milan perché è un frullino che salta l'uomo ma poi alla fine non combina mai un tubo! Cioè, ma stiamo scherzando! Avevamo paura del Genoa! Lui era contento! A lui gli interessa non prendere gol! Cioè, lui vive nel 1850 calcistico, non vive nel 2024, nel terzo millennio! Questo è allegri! E gli allegriani spero che quando verrà esonerato si levino dai coglioni! Ma veramente! La smettano di tifare Juventus! Non li vogliamo! Non li vogliamo tifare Juventus! Gente che ha difeso il cancro della Juve! Il male della Juve! Il titolo di questo quattro amici al VAR è molto eclatante! Liberateci dal male! Il male è allegri! Il male alla radice sappiamo tutti qual è! No? È l'enigmista! Sai chi è l'enigmista, no? Sì, lo so, lo so! Andate a vedere l'ultima foto dell'uscita di John Elkamp come conciato e poi non mi dite se sembra l'enigmista nemico di Batman! Mamma mia, come siamo messi male! Il vero problema è quello lì, è lui! Però, però, lui non lo può mandare via perché il padrone, cioè il padrone non si manda via da solo, no? Finché non venderanno la Juve, Dio grazie, speriamo che un giorno la vendano, no? Si levano dalle palle allegri e tutti i filistei, come diceva quello, fuori dai maroni! Fuori dai maroni! Giusto? Che poi non vengono a dire, eh, però Allegri, in effetti, non era sto grande allenatore quando ria quello nuovo. Come hai visto? Come ho fatto il video ieri nel Juve Forever? Eh no! Se lo critichi, lo devi criticare adesso e devi essere consapevole di quello che è adesso l'allenatore. Ti sta bene come allena? Segui Allegri, vai con Allegri, seguilo! Seguilo! Questi, come ti ho già detto in una puntata, questi sono capaci poi di venire qui sotto a dire, a criticare il nuovo allenatore. Eh, ma Allegri faceva questo, eh, ma Allegri ha fatto quello, eh, ma Allegri ha fatto quello. Allegri ha vinto gli Scudetti perché, grazie a un certo Antonio Conte che gli ha costruito una squadra d'oro, gli ha messo una squadra bella che fa. Marotta gli l'ha rinforzata, perché andava a comprare i coin, andava a comprare i pianici, andava a comprare i chiedi, i più forti nei ruoli gli andava a comprare. E sono capace anch'io di vincere così, eh. Eh beh. E poi non ha vinto nientanto che i campionati, quindi, e qualche compitato. Lui, lui, dei cosiddetti, ti faccio un'anticipazione di domani mattina, lui, dei cosiddetti grandi allenatori, è l'unico che non ha vinto uno strazzo di Coppa Europea. Sarri, che non è considerato un grande, ha vinto un'Europa League. Chiaro? Boh, ma poi mi fermo qua. Allora, ultima cosa, poi ci salutiamo. Allora, secondo te, Giuntoli sta studiando dal direttore, no? Quest'anno? Non ha ancora iniziato a fare il direttore. Sta studiando. Perché Allegri non è un suo allenatore, non l'ha scelto lui. La squadra non l'ha fatta lui. Cosa ha fatto Giuntoli adesso alla Juve? Niente. Fa delle dichiarazioni di facciata. Sta lì, è parcheggiato lì, no? Secondo me non vede l'ora che finisca la stagione. E spero che, siccome è il direttore generale dell'area sportiva della Juventus, perché lui è il capo, lui che comanda, gli dica, spero che lo faccia, così come lo fecemo oggi a suo tempo, spero che gli dica a Eka, senti John, tu pensa alla Ferrari, pensa a Batman, pensa al golf, che alla Juve ci penso io. Cambiamo l'allenatore, mandiamo via gli scarti di giocatori presi da Paratici, da Agnelli, da Nedved e prendiamo tre o quattro giocatori di livello, un paio di parametri zero di grande qualità, un paio di giocatori forti, qualcosina bisogna investire, di soldi ne arrivano perché c'è la mondiale per club e speriamo che ci sia anche la Champions League. Ecco, punto. Perché altrimenti, scusa se te lo dico, ho dovuto fare questa premessa perché altrimenti non potevo farci la domanda, altrimenti mi devi spiegare cosa cazzo serve giuntoli alla Juve, cioè che valore aggiunto è stato giuntoli quest'anno alla Juve, per me in questo momento zero, non ne parlerò mai male perché non ha fatto niente, cioè uno che non ha fatto niente non puoi parlarne male, no? Ma non ne puoi neanche parlare bene, cioè giuntoli in questo momento è tra coloro che sono sospesi, messo lì, no? Io spero veramente che il 26 di maggio, quando finisce il campionato, no? Gli prendano un biglietto solo andata per il gabbione di Livorno e non si faccia mai più vedere il signore di Livorno. Che dici? Dimmi un po'. Io dico che giuntoli in questo momento sta facendo delle dichiarazioni di facciata. Io sono convinto di questo perché non può essere soddisfatto e convinto del lavoro che sta facendo Allegri. Il grosso equivoco è questo, no? Lui sta dicendo che con Allegri ci troviamo bene, con Allegri sta facendo bene, non vedo perché dovevo andare via. Eh, però... Stiamo facendo bene? Stiamo facendo bene se si inchia. Se tu lo guardi negli occhi non si crede neanche lui di quello che sta dicendo. Però logicamente poi c'è chi si ringalluzzisce con sta cosa, eh, giuntoli vuole rinnovare Allegri, vedete? No, giuntoli non vuole rinnovare Allegri. Sì, ma scusa, scusa Francesco, scusa, perdonami, bravo, hai fatto bene, cioè, ma non è che noi dobbiamo riferirci a dei deficienti, perché questi sono deficienti, cioè non sono persone normali. Perché, ascolta, se tu vuoi bene alla tua gatta, non gli fai mangiare l'ostearco di cane, gli fai mangiare buone, giusto? Ok? Se tu vuoi bene alla tua gatta, gli fai i vaccini se ci sono da fare i vaccini, gli dai le medicine se ci sono da fare le medicine, non è che gli dai delle frustate, mangia, mangia, cioè, capito? Quindi questi qui che difendono Allegri sono dei poveri deficienti, punto. Siccome non faccio nomi, chi si sente offeso, cazzi suoi, ma sono dei poveri deficienti, perché è indifendibile Allegri. Non puoi, nel senso, lo difendi se sei dentro alla Juventus, allora per facciata lo devi difendere, ma sei un tifoso qualunque, come me, come te, che guarda le partite, che ha la juventinità nel sangue e critica un allenatore che l'ha tolta la juventinità nel sangue, l'ha tolta l'allenatore e l'ha tolta anche, perdonami, il presidente, Elkan, non ha la juventinità nel sangue. Ma Elkan è un peso per una juventinità. Alla Juventus manca la juventinità, è una parola che è sparita dal vocabolario della Juventus. C'era, c'era, ma ha incominciato a fare delle cazzate una dopo l'altra, sai di che sto parlando, no? Di Andrea Rinelli. Sì, assolutamente, sì. Però ha cominciato, lui, in concomitanza col divorzio da sua moglie, è una coincidenza temporale, non credo che sia proprio quello, però non si può mai sapere, nella vita le donne a volte li fanno la giù di testa, ha incominciato a fare cuttanate, ha mandato a fanculo marotta, ha incominciato a promuovere uno che è, cioè, mamma mia, penso a parlare, ci mi viene l'orticali ancora adesso, ok? A quello che, le cazzate che ha fatto. Voi scusate, hai sentito Kuluseschi cosa ha dichiarato la settimana scorsa. E non si allenavano? No, ha detto, certo che se mette i giocatori fuori ruolo, è impossibile che rendano il meglio. Sì, però ha detto anche che non si allenavano anche, c'era un allenamento che non andava bene, sostanzialmente. E' noto al Tottenham con Conte, eh? E' noto a Tottenham con Full Metal Jacket, eh? Con Full Metal Jacket, eh? Cioè, stiamo parlando di Bacco, Tabacco e Venere contro Full Metal Jacket, perché non è anche uno che piace divertirsi, godersi la vita, guadagnare soldi senza fare un cazzo. Ho detto questo, eh? Perché non se li sta meritando, eh? Questo triennio, tu ti rendi conto che in questo triennio lui si porterà a casa 27 milioni? Lo sai o no? Sì. Perché se si qualifica quarto quest'anno, porta a casa 9 milioni, non 7, 27 milioni a non fare un cazzo, a far cagare, a far scoppiare le vene, i fegati agli juventini. 27 milioni, sei ciucciato questo qua. Che neanche, neanche se viviamo 5 vite le possiamo spendere io e te, 27 milioni. No, ma quel no. Prendi 27 milioni, prendi 27 milioni, bene, te li sei meritati, contentissimo, te ne do anche 30. Cazzo, ma vincimi qualcosa, porca puttana, vincimi. Ha fatto la peggior Champions League della storia della Juventus l'anno scorso e quest'anno sto facendo il peggior campionato come, 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 come stringa di risultati. E guarda che domenica, però, fa due domenica, sabato, perché giochiamo sabato di Pasqua, sabato 30 di marzo. Non vinciamo Roma con la Lazio. No. Non vinciamo Roma con la Lazio, signori, mettetevelo bene in testa, eh. Non vinciamo Roma con la Lazio. Se ci va bene pareggiamo, se ci va bene. Ma io credo che noi ci prenderemo una balla batosta. Con il discorso che hai fatto prima, Tudor si vuole vendicare dello stile Juventus, si ne vuole vendicare. Ma poi guarda che la Lazio non è una squadra scarsa, eh. Assolutamente no. Assolutamente no. Quindi, prospettive. 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 Prospettive future dopo questa stagione o prospettive da qui alla pausa. No, 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 no. Rimani e rimani sul pezzo. A partire da domani. Esonero o non esonero? Partita con la Lazio? Coppa Italia? Fammi un po' una specie di previsione magica. Eh, previsione magica. Vi sei considerato il fatto che lui non si dimette e sicuramente i Sabaudi non fanno dar via un allenatore prima della fine del campionato. Se ci va di grazia, arriviamo, io ti ricordo l'altra volta che avevo detto di rifo di rata arriviamo quarti, quinti o sesti, o setti. Con la prospettiva che ho i risultati da questa parte, oh, sono due mesi che non vince. Due mesi. Perché il gennaio le ha vinte quasi tutte, febbraio non ha vinto e marzo lo sta vincendo. È un mese e mezzo che non vince una partita. così, dopo la pausa, dopo la sosta. Hai detto giusto, hai detto giusto perché otto partite sono due mesi. Due mesi. La città è un calendario, proprio sono due mesi otto partite. Anche perché poi voglio dire, la Juventus gioca, hai la fortuna, hai il culo di giocare con una delle squadre più titolate in Italia, una partita a settimana. Esatto, bravo, questo non l'abbiamo mai affrontato. Se non fa le coppe, non fa le coppe. Una partita a settimana. Porca miseria, la Juventus, una partita a settimana. Le deve vincere tutte, o comunque una buona parte. Io ti ho detto. Specialmente con il Cusinone, Udinese, Verona, Atalanta, Genoa, che non sono squadroni. Perché quest'anno l'Atalanta, hai visto, no? Veleggia fra il settimo, il nono e il decimo posto. La vittoria non dovevi cercarla con l'Inter, devi cercarla con questa. Ma io poi sai che su questa cosa io insisto, tu dovevi beccare le partite quelle con Empoli, con Udinese, con Verona, con quella e non con quella con l'Inter. No, non neanche con l'Inter. Ma poi, scusa, non più tardi di ieri, è venuta una squadra che non ha nulla da chiedere al campionato, perché è matematicamente salva e non andrà sicuramente in nessuna coppa, perché è troppo lontano dalle coppe e troppo lontano dalla retrocessione. Una squadra che è venuta a fare una sgambata Torino, ok? Che se perdeva, allora non è che gli cambiava la vita. Non siamo riusciti a fare un tiro decente. E poi un'ultima cosa, ma è possibile che il centravanti della Juventus quest'anno sia Gatti? E' un giocatore che fa più tiri nella porta avversaria tutta la stagione. È Gatti. Io gli faccio complimenti a Gatti, ovviamente. Ma stiamo scherzando però, eh? Sai cosa vuol dire questo? Vuol dire che i centrocampisti, che fanno cagare, perché fanno cagare tutti per me i centrocampisti della Juventus, non sono capaci di mettere palloni. L'unico quest'anno che si è meritato i galloni di centrocampista meritevoli della Juve è McKennie. McKennie quest'anno ha fatto un campionato stratosferico. Cambiasso, se ne sono accorti in pochi, è due partite che non c'è. L'altro è che ha giocato bene. No, è due partite che non c'è, perché Cambiasso saltava sempre l'uomo, andava sempre sul fondo, ok? Era un piccolo quadrato, come lo chiamavo io, no? Due partite che non c'è, eh? Ha fatto sì un bel cross ieri, ma, cioè, non ci siamo. E qui mi sorge il dubbio, se dei giocatori che hanno performato bene e che sono giocatori di qualità, tra l'altro chi è che ha creato Cambiasso? Tiago Motta. Tiago Motta. Tiago Motta. Eh, quando ha diventato Cambiasso è stato Tiago Motta. E quindi spero che se lo ritrovi e diventerà, secondo me, uno dei terzini più forti d'Europa, secondo me, Cambiasso. Con Tiago Motta. Con Allegri diventa una ciofeca, perché Allegri ha il tocco di re merda, non di remida. Remida trasformava in oro tutto quello che toccava. Lui trasforma in merda tutto quello che tocca. Difatti lo chiamo re merda. Ok? Questa non è che si tolga dalle palle sto 3-5-2, che non ne posso più dividere sto cerchio. Ma fa le battute, ma fa le battute, ma fa le battute. Ma avesse, scusa Max, avesse anche, fa le battute, ma avesse anche da fare le battute. Fai ridere i polli? Cosa fai la battuta? Non fa ridere nessuno. Ti fa prendere in giro da tutti, eh? E soprattutto ti mal sopportiamo tutti. Lui non ha capito ancora sta cosa. Ma lo stanno difendendo soltanto i suoi amici, Sabatini, Zazzaroni e Caressa. E lo stanno difendendo perché sono amici, ma non perché credono in quello che dicono. Però se tu spari cazzate, Francesco, anche se sei il mio miglior amico, è giusto che si sappia, io te lo dico, ma che cazzo stai dicendo, Francesco? E tu te lo hai detto tante volte. Se io dico delle cazzate che non ti sfagiovano, me lo devi dire. E infatti non è mai capitato perché io non dico cazzate. Scherzo. Sto scherzando, ovviamente. No, capito, Franci? Cioè, veramente, adesso, fate la battuta. Bisogna smetterla, bisogna veramente smetterla di difendere colui che è indifendibile. Perché è vero, è il canale delle colpe, i giocatori hanno delle colpe, ma se i giocatori vanno in campo in confusione, la colpa non è né di Francesco Perotti, né di Max Montaina e né di coloro che guardano questo video. La colpa ha un solo nome e coglione. Nome e cognome, non coglione. Nome e cognome. Massimiliano Allegri da Livorno. Ci tengo a sottolineare che lui si chiama Massimiliano, io mi chiamo Massimo, giusto perché non si sa mai, no? No, infatti che non ci confondano le cose. Tutti e due siamo soprannominati Max, che ci sta, che uno è, che è bello anche come soprannome, però io mi chiamo Massimo e lui si chiama Massimiliano. Bocce ferme. Quindi, caro Francesco, sperando che in questa settimana a Torino prendano delle decisioni, anche se non ce le dicono, anche se non ce le dicono ufficialmente, diamo appuntamento ai nostri amici la settimana prossima, lunedì, come sempre, ormai è un appuntamento fisso. Io potrei spostarlo al martedì a volte o mercoledì per avere magari in più Ludovico, per avere Massimo, per avere Salvatore, però io vorrei che la gente, visto che si è abituata, appunto, vedesse una pausa pranzo, subito dopo pranzo, il quattro amici al VAR a lunedì, come appuntamento fisso e quindi rimandiamo a lunedì, a parte che poi la settimana scorsa ci avete premiato con delle visual pazzesche, quindi ringraziamo di cuore. Ribadisco, restate sintonizzate sul canale, perché potrebbe, non è ancora deciso, ma ne parlerò poi privatamente con Francesco, con Ludovico e con Massi, e anche Salvatore ovviamente, che però è impegnato col lavoro, con la famiglia, con i bambini, una sorpresa che riguarderà le live reaction, ma non vi dico nulla, non vi dico assolutamente nulla, è un esperimento che voglio provare a fare, vediamo se funziona, e via discorrendo, va bene? Quindi, caro Francesco, io ti ringrazio ancora per essere sempre presente, quando è possibile ovviamente, perché lavoro permettendo, ringraziamo la Lilli che è deciso, adesso mi stacca, vedrai che mi stacca il video, perché mi fa sul mouse, beh, da parte è un gatto e quindi le attacca il mouse, no, il topo, va bene, signori, grazie ancora, mi raccomando, commentate quello che abbiamo detto, io Francesco, diteci se siete d'accordo, se abbiamo detto delle cose esagerate, se non siete d'accordo, chi vorreste come allenatore al posto di Allegri, se vi piace Zidane, se non vi piace Zidane, se vi piace Tecomota, se volete Conte, se volete italiano, insomma, commentate, perché noi i commenti li leggiamo tutti, se non rispondiamo, non è che non rispondiamo perché non ci va di rispondere, perché magari avete detto una cosa che è giusta, avete detto una cosa che è condivisibile, magari metto il cuoricino, metto il like, ecco, tutto qua, sapete che io non chiedo like, non chiedo iscrizioni, non chiedo niente, quindi io chiedo solo che voi commentiate perché mi interessa l'opinione del pubblico che frequenta il mio canale, tutto qua, punto. Franci, ad Maiora, ci vediamo presto, e Juve, ricordatevi che la Juventus non è una squadra di calcio, la Juventus è una fede, e la fede non si tradisce mai, sempre e comunque. Ciao a tutti. Ciao.